Spirito Santo, togli da me l'ipocrisia. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici, buon inizio settimana. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo capitolo 23 dal versetto 13 al 22. In quel tempo Gesù parlò dicendo, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente, di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e quando lo è divenuto lo rendete degno della genna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite, se uno giura per il Tempio non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio, che rende sacro l'oro? E dite ancora, se uno giura per l'altare non conta nulla, se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra. E chi giura per il Tempio, giura per il Tempio e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Amen. Carissimi amici, oggi iniziamo una parte molto particolare. Siamo già verso la conclusione del Vangelo, verso la fine del ministero pubblico di Gesù. Ci sono i famosi guai. Che cosa sono? Sono delle sentenze, delle denunce pubbliche da parte di Gesù nei confronti degli scribi e i farisei. Sappiamo che addirittura nell'Antico Testamento, in tutti quei libri, almeno 60 volte sono descritti dei guai. Guai al popolo di Israele, a coloro che rimangono infedeli a Dio, alla sua parola, alle sue promesse. Gesù riprende questa modalità di denuncia in particolar modo, anzi soprattutto, verso farisei e scribi, a cui attribuisce il titolo di ipocriti. Sette sono quindi i guai. Ogni volta Gesù dice «Guai a voi, scribi e farisei, che puntini puntini». E Gesù dice «Perché guai a voi». Innanzitutto c'è da dire una cosa molto importante, altrimenti noi saremo davvero molto distaccati da questo contesto in cui Gesù parla. Il tempo in cui l'Evangelista Matteo scrive dopo il 70 dopo Cristo il Tempio e la città di Gerusalemme sono state devastate, distrutti e le guide spirituali del popolo, in particolar modo per la interpretazione della lecce, sono rigorosamente gli scribi e i farisei. loro posseggono in un modo esasperato e esagerato l'interpretazione della legge e condannavano gli altri che non rispettavano non solo la legge ma soprattutto i precetti che avevano aggiunto loro per non deviare non solo dalla legge ma da una santità di vita. Sembrerebbe buono, bello e positivo ma in realtà Gesù che conosce il cuore delle persone conosceva e vedeva anche il cuore di questi scribi e farisei. Prendiamo il primo guai «Guai a voi scribi e farisei ipocriti che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente non entrate voi e non lasciate entrare neppure loro» perché avevano posto sulle spalle delle persone degli ebrei così tante norme da osservare da custodire e da rispettare nella propria vita che non riuscivano a camminare in un modo giusto sempre qualcosa non andava bene ma nemmeno loro riuscivano ad essere ligi a tutto questo però giudicavano gli altri si facevano da giudici ecco il sinedrio il secondo guai dice «Guai a voi scribi e farisei ipocriti che andate e percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito eppure lo rendete schiavo degno della Genna due volte più di voi» dice «Voi avete un falso zelo per il portare la lecce, il giudeismo stesso non siete sinceri, avete una maschera eppure dite che volete convertire le altre persone ma il vostro cuore è sporco» e infine l'ultimo guai di oggi è il terzo su sette «Guai a voi guida e cieche che dite se uno giura per il Tempio non conta nulla eccetera eccetera» si parla di giuramenti però con delle distinzioni talmente sottili, sottili anche assurde per non pronunciare il nome di Dio e per non sbagliare, per scrupolo che alla fine si perdevano tutti quanti Gesù dice attenzione perché dietro a tutto questo c'è ipocrisia noi come cristiani come chiesa come gruppi di preghiera come comunità di preghiera comunità di vita spesso possiamo anche noi cadere in quella fossa dove sono caduti gli scribi e i farisei questa fossa si chiama ipocrisia condanniamo giudichiamo ci riteniamo giusti ci riteniamo i giudici degli altri gli accusatori degli altri coloro che portano e citano in giudizio le persone che hanno sbagliato guardate che stiamo ritornando nel contesto del discorso comunitario ecclesiale di Matteo quando ha detto «chi sei tu per giudicare il tuo fratello?» Amalo non guardare la pagliuzza dal suo occhio se tu hai una trave davanti a te fratelli e sorelle gli scribi e i farisei nella loro ipocrisia giudicavano sempre non avevano degli occhi sani un cuore sano una mentalità sana un giudizio sano verso gli altri chiediamo allora anche noi al Signore di poter essere puri di non cadere nell'ipocrisia e nel farci forti di certe virtù di certi doni di certi nostri gesti di azioni parole perché la grazia viene da Dio il peccato viene dall'uomo questa è l'unica cosa certa e come fare? Invocare lo Spirito Santo perché Gesù ha detto solo lo Spirito Santo vi convincerà di peccato vi convincerà che siete ipocriti e tutti quanti cristiani e non cristiani viviamo una piccola o grande ipocrisia nella nostra vita allora insieme a me vi chiedo chiediamo a Dio un cuore puro un cuore bello un cuore autenticamente cristiano che non inganna gli altri che non è doppio vieni Spirito Santo tocca il mio cuore in questo giorno aprilo a te riconosco i miei errori i miei passi falsi allontana dal mio cuore la doppiezza allontana la falsità dal mio cuore allontana dalla mia vita l'ipocrisia dalla mia famiglia dal mio lavoro da tutto ciò che io faccio per essere ammirato stimato Spirito Santo vieni donami un cuore semplice un cuore che tema il tuo nome un cuore che sappia essere sempre autentico di fronte alle altre persone ai miei amici ai miei familiari ai miei parenti e a te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli ame cari amici oggi il Signore parla chiaro ecco perché anche lo slogan è molto chiaro Spirito Santo togli da me l'ipocrisia una preghiera che dovremo recitare tutti i giorni della nostra vita per camminare retti di cuore eppure nelle nostre parole e azioni amè carissimi amici vi offriamo come sempre all'inizio della settimana il salmo responsoriale della prossima domenica che abbiamo musicato noi come Shout Coinonia lo troverete quindi sul nostro canale Facebook e Youtube grazie per come seguite anche questo canale Shout Coinonia è una band musicale ma soprattutto un progetto della Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella per evangelizzare attraverso la musica il canto e un canto ispirato al testo della parola di Dio e portare la gioia e la speranza attraverso produzione musicali e anche delle live che facciamo come Praise and Worship lode e adorazione se volete sostenerci potete andare nella nostra pagina web troverete un articolo dedicato a tutto ciò di cui abbiamo ancora bisogno e anche ai progetti futuri produzioni perché il mondo possa ricevere attraverso la musica il Vangelo con gioia testimoniato grazie per sostenerci buona giornata a domani ciao a sete di te signore l'anima mia a sete di te signore l'anima mia o Dio tu sei il mio Dio dall'aurora io ti cerco a sete di te l'anima mia grazie a tutti